Alle 10.30 noi dell'associazione Amici di Minoretano Onus facciamo una donazione domani alle 10.30 presso gli ospitali di Ligia, al sesto piano, il reparto di pediatria e noi faremo, noi dell'associazione Amici di Minoretano Onus, una donazione ai bambini di colerare. Doneremo delle, ci hanno richiesto delle piccole sedie per i bambini e noi forniremo questo materiale già è partito il politico da Milano per la nostra associazione e domani consiglieremo questi doni. Domani chiedete più di voi 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 di voi. Grazie. E vi ricordo che domani alle 8.30 c'è il memore del vino al teatro e al teatro di Puglielo. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie.